Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere presenti per questo evento, fare politica senza fondi pubblici, nuove vulnerabilità e sfide per la trasparenza. Siamo molto felici di vervi qui numerosi e di avere Radio Radicale che registra questo evento. Passo subito la parola a Mario Raffelli, ex deputato, ex sottosegretario, attuale presidente del Centro per la Cooperazione Internazionale, che è l'ente di cui UBC TransEuropa fa parte, per darvi il benvenuto. Bene, benvenuto a tutti, grazie della presenza, è numerosa infatti, clima che possiamo mantenere colloquiale, visto la sala gradevole. Vi dovrei fare un saluto istituzionale, però è troppo ghiotta l'occasione per non mettere sul tavolo qualche riflessione, legata anche al fatto che, appunto, come è stato detto, io bene o male ho fatto il parlamentare per quattro legislature, il sottosegretario agli esteri, per cui, diciamo, la materia di cui si discute oggi non mi è estranea. Questo, come sapete, o se non lo sapete lo dico, è il secondo di tre appuntamenti di questo progetto importante, che mira a focalizzare, diciamo, quali sono gli elementi strutturali di pericolo, di difficoltà nei confronti delle possibili interferenze nei processi, diciamo, democratici nei nostri paesi, sia provenienti dall'esterno che dall'interno. Il primo, che abbiamo fatto anche qui a Roma, presso la sede della stampa, era concentrato sul problema dei nuovi mezzi di comunicazione, la rete e le possibilità di disinformazione. Questo è il secondo, poi c'era un terzo sulla cyber security. Quindi, un tema importante, perché appunto attiene alla possibilità di difendere i processi democratici nei nostri paesi, e il fatto che l'Italia sia scelta, diciamo, come caso da studiare, è significativo, perché secondo me anche su questo problema, così come su tanti altri, noi siamo un polipi fenomeno, nel senso che i problemi che noi abbiamo da affrontare esistono anche in altri paesi, ma non esistono nella stessa misura, con le stesse complicazioni, con le stesse difficoltà, che abbiamo nel nostro paese. Quando stavo venendo qua, pensavo a quando è stata la prima volta che ho avuto contezza del problema del finanziamento della politica. E pensate, fu esattamente nel 1966, avevo vent'anni, e dopo una riunione della corrente di sinistra del Partito Socialista Lombardiano, della quale facevo parte, in un momento, diciamo, conviviale, e sentivo parlare Riccardo Lombardi e Tristano Codignola, nomi che a molti di voi non diranno nulla, ma in questa sede fanno tremare i muri, perché sono figure storiche nella sinistra italiana, beh, sentivolo due parlare del fatto che ormai avevano le prove che la scissione dello PSUP, un partito che nacque nel 1963, tre anni prima, era stata finanziata contemporaneamente dall'Unione Sovietica e dalla Confindustria italiana. E questo perché, per ragioni evidentemente specularmente opposte, sia l'Unione Sovietica che la Confindustria avevano l'interesse a indibolire il Partito Socialista che andava a fare questo primo tentativo, questo centro-sinistra, allora attaccato dalla loro partito comunista, per poi avere, qualche decennio dopo, Bertinotti dire che fu la stagione più importante del riformismo in Italia. E questo, diciamo, esemplifica cosa è stata la situazione italiana dal dopoguerra fino agli anni 70 inoltrati, cioè mancanza di regole e finanziamenti, appunto, che provenivano dai due blocchi contrapposti e dagli enti di Stato, in particolare italiani, e anche dal settore privato. Come sapete, la prima legge che è intervenuta invece per metter fine a questa assenza di regole è del 74. E anche questa è una legge che, anticipando una serie poi di errori che si ripeteranno nel tempo, si accontentava più di dichiarazioni e di, diciamo, previsioni formali che non dei meccanismi della possibilità di poter poi controllare realmente il rispetto di questi meccanismi. Ma aveva anche alcuni buchi, diciamo, sostanziali. Il primo, per esempio, di essere una legge che poi era priva dell'altro pilastro, che era quello che ancora oggi manca, di una regolamentazione dei partiti effettiva. Come sapete, esiste un articolo della Costituzione, non è ancora applicato, che prevede, appunto, di regolare formalmente la vita dei partiti e del sindacato in un altro articolo. E quindi, evidentemente, mancava un presupposto, tant'è che i bilanci, come è noto, dei partiti fino a tempi recenti erano presentati in Parlamento, ma senza alcuna possibilità di una verifica reale. Poi c'erano altre incongruenze tipicamente italiane. Per esempio, si prevedeva il divieto per gli enti pubblici di finanziare, le imprese pubbliche di finanziare i partiti, si consentiva ai privati con un limite di 5 milioni, sotto i quali si poteva non dichiarare il finanziamento, sopra i quali bisognava fare una dichiarazione congiunta presso la Camera dei Deputati o il Senato, rispettivamente, che non veniva quasi mai fatta per la banale ragione e che gli imprenditori non volevano far sapere chi finanziavano, anche perché molto spesso finanziavano più partiti contemporaneamente. E dall'altra parte, mancando appunto gli strumenti di verifica e quindi di intervento puntuale, era anche facile superare questo. Un terzo elemento, che anche ha riflessi nelle situazioni attuali, era quello che poi si è legiferato nella parte penale in maniera anche qua abbastanza astrusa. Per esempio, per molti anni, per decenni, si considerava penale con pene quasi simili sia il finanziamento illecito ai partiti che la corruzione o la concussione addirittura. Mentre è del tutto evidente che esisteva una differenza sostanziale e anche morale, perché nel finanziamento illecito non è illecito prendere i soldi, era illecito non denunciarli, ma quei soldi erano legittimi, non erano frutto di una corruzione. Mentre la corruzione o la concussione evidentemente sono i soldi che tu non devi prendere al di là che tu li denunci o meno. Eppure questi due fatti specie, così diverse, sostanzialmente moralmente, venivano trattate allo stesso modo. Cito questo fatto perché questi difetti, che ho riassunto sommariamente, sono stati poi una delle cause del fatto che quando Tangentopoli esplosa sia stato difficile operare una transizione più graduale e più garantita da questo fenomeno e si è arrivati invece a dare incendio alla pratteria, distruggendo non solo chi era giusto venisse rimosso, ma distruggendo sostanzialmente quel sistema politico con la difficoltà di sostituirne un altro efficiente. Perché questo? Vi richiamo di nuovo a questa mancata distinzione fra le fatti specie diverse. Voi vi ricordate che allora si proclamava da parte di molte persone che rubare per i partiti era più grave che rubare per se stessi e questo era il meccanismo attraverso il quale il finanziamento illecito diventava l'entry point per poi arrivare alla delegittimazione generale. Bene, Tangentopoli la risposta è stata aboliamo il finanziamento e si arrivò all'abolizione del finanziamento con un'altra truffa perché la sostituzione al finanziamento ai partiti divenne il finanziamento delle campagne elettorali con anche lì dei marchi ingegni assurdi, ne cito uno per tutti, il fatto che si poteva anche essendo un partito minuscolo e magari con la campagna elettorale che ripartiva dopo due anni ricevere magari non rieletti in Parlamento non entrando nemmeno il partito in Parlamento continuava a prendere il contributo previsto dalla legge fino alla fine della legislatura ormai morta non più esistente quindi era un pagamento privo dei presupposti eppure questo è andato avanti per anni. Qual è il problema? Che quindi anziché affrontare questa tematica in maniera rigorosa si è affrontata con interventi sempre a spezzoni credo siano otto le leggi che ci sono adottate negli ultimi 15 anni senza mai arrivare a un testo unico ma appunto accavallando questo paese dove mai una cosa sostituisce un'altra ma sempre si aggiunge c'è un riformismo aggiuntivo, mai sostitutivo fino a creare un panorama difficilissimo come sapete la cosa è finita con la chiusura totale del finanziamento pubblico e quindi oggi la necessità di dare una regolamentazione al finanziamento privato non entro nelle vari punti delle tematiche che saranno affrontate ai relatori mi limito a dire che secondo me è chiaro che l'unica discriminante che deve uniformare qualsiasi intervento si vuole adottare è quella della trasparenza ma con una chiarezza che la trasparenza non può essere una dichiarazione un flatus vocis per cui mettiamo la trasparenza ovunque dopodiché non dotiamo gli strumenti necessari perché la trasparenza diventi realmente efficace e questo significa avere una capacità di controllare i criteri che vengono adottati per la trasparenza e avere gli strumenti appunto per intervenire la seconda questione che io pongo è se sia poi così necessario avere l'esclusione di qualsiasi tipo di supporto pubblico mi è chiaro che è impensabile tornare a qualsiasi forma di finanziamento pubblico in senso proprio però forse esplorare delle vie attraverso le quali non in finanziamento ma come dire in kind con una strumentazione che vada a favore di movimenti politici potrebbe essere una cosa che si integra con una disciplina di finanziamento privato parlo del problema di avere delle sedi che possono essere date a teolo gratuito per manifestazioni, per iniziative la possibilità di accedere a pubblicazioni pagate perché di interesse la possibilità di avere degli spazi televisivi sulla televisione pubblica non solo in campagna elettorale ma durante tutto il periodo diciamo dell'attività politica ultimo il problema anche delle lobby anche qua ne parlo per esperienza diretta quando ero sottoscritto agli esteri per esempio mi si poneva spesso il problema di interloquire con i rappresentanti dei grandi gruppi italiani quali erano evidentemente interessati a sapere quali fossero le intenzioni diciamo macro della politica estera italiana ed era sempre un problema porsi in maniera astratta il tema ma faccio bene a dare delle informazioni che per un verso sono doverose perché orientano il sistema produttivo italiano ad andare che so in Mozambico piuttosto che in Tanzania perché lì saranno dati i finanziamenti e non altrove oppure dare queste informazioni che per un verso è legittima e doverosa diventa un privilegio perché quel gruppo ha avuto la possibilità di arrivare a parlare con la figura responsabile e altri non ce l'hanno o più banalmente mi ricordo quando firmavo i programmi di cooperazione internazionale le cifre macro si chiamavano verbali delle commissioni miste che non avevano alcun valore cogente erano una lista della spesa dei possibili interventi però coperte da un segreto assurdo poi scoprì che si faceva commercio sotto banco di questi si vendevano e quindi con una battaglia interna al ministero convinsi che era meglio renderli pubblici perché così si togliono dal mercato e infatti li rendemmo pubblici erano stampati regolarmente erano documenti dal valore estremamente limitato che però coperti al segreto diventavano preziosi in quel modo ecco esempi per dire che delle volte delle soluzioni semplici sono molto più efficaci che soluzioni arzigocolate perché sommando previsione a previsione poi si complica la trasparenza invece che rende la più facile grazie buon lavoro grazie grazie davvero a Mario Raffaelli invito chi interviene a venire al tavolo ci disponiamo grazie davvero Mario Raffaelli per questa introduzione appunto non solo un saluto ma un'introduzione vera e propria ad alcuni dei temi principali che trattiamo oggi prestando particolare attenzione alla questione della trasparenza che è effettivamente una questione su cui ritorneremo mi presento sono Giorgio Comai ricercatore ed analista ad OBC Trans Europa e coordinatore di questo progetto ESVEI all'interno del quale avviene questo evento farò una brevissima introduzione prima poi di passare appunto la parola a chi interviene anche per fornire un po' di contesto su perché noi ci occupiamo di questi temi e perché questi temi sono rilevanti quindi questo progetto nell'ambito di cui questo evento si tiene è nato come un progetto sulle interferenze esterne in un contesto quello di ormai un paio di anni fa si parla dell'elezione di Donald Trump del referendum sulla Brexit in cui si parlava tanto di interferenze esterne si parlava tanto di bot russi per esempio questioni di questo tipo beh ora credo correttamente di bot russi si parla molto meno e si continua a parlare invece di interferenze si parla spesso di interferenza russa però insomma magari tra qualche anno ci ritroveremo a parlare di interferenza di altri paesi magari di altre grandi potenze che ne so la Cina o di altri attori economici importanti che siano le grandi aziende di internet o che siano invece le grosse corporations del gas e del petrolio e diciamo così la riflessione che sta alla base di tutto questo progetto è quella che nel contesto contemporaneo si sono create una serie di nuove vulnerabilità strutturali e quindi è meglio ragionare su queste vulnerabilità delle democrazie occidentali anche come la nostra che concentrarsi su singoli casi singoli episodi insomma che passano lasciano il tempo che trovano invece spesso non si ragiona sufficientemente su come trovare soluzioni per questi problemi mentre le soluzioni spesso non cercare di trovare una soluzione per un singolo problema non risolve il problema di lungo periodo invece cercare di guardare cosa vista alla base cosa permette l'evoluzione di quel caso di quello scandalo dei dubbi su uno scandalo insomma ci sono questioni molto più molto più importanti quindi tra tra le dinamiche insomma che creano queste vulnerabilità insomma vi è il ruolo predominante di internet e social media quindi appunto con tutto il dibattito sulla comunicazione online la pubblicità mirata il micro targeting la mobilità delle finanze in senso più ampio le vulnerabilità informatiche questo degli attacchi cibernetici è una questione che emerge sempre più frequentemente e credo emergerà ancora anche nel contesto di campagne elettorali anche nel contesto elettorale e queste sono questioni che prendono attenzione prendono occupano il dibattito pubblico anche a prescindere dal loro impatto immediato quindi in molti casi anche solo il dubbio che sia avvenuto qualcosa è sufficiente a inquinare il dibattito pubblico e a farci perdere a tutti tanto tempo a parlare di uno scandalo invece che magari di trattare di politica e di questioni come dire sostanziali rilevanti insomma nel dibattito pubblico e quindi tra tutti questi temi appunto su cui vi sono stati dubbi negli ultimi anni che siano i bot che sia la disinformazione che sia algoritmi poco trasparenti beh tra queste c'è anche la questione di donazioni più o meno trasparenti o più o meno oscure che è un tema che è emerso negli ultimi anni più volte non solo in Italia anche in altri paesi europei ma anche in Italia anche recentemente e quindi su questo tema delle donazioni in particolare che ci concentreremo oggi e quindi parleremo di donazioni di come la politica si finanzia e di come sia importante avere effettiva trasparenza sui meccanismi che consentono a partiti e movimenti politici di avere risorse finanziarie per sostenere le loro attività campagne elettorali attività politiche comuni come noto e come vedremo più nel dettaglio tra poco appunto a partire dal 2013 effettivamente al 2014 progressivamente negli anni successivi è stato abolito il finanziamento diretto alla politica in Italia che appunto è espressione di una tendenza di più lungo periodo di cui si è accennato brevemente poco fa e soluzioni sostitutive al finanziamento diretto alla politica come ad esempio il 2 per 1000 e di nuovo lo vedremo più tardi con dei dati non hanno assicurato un adeguato sostegno finanziario ai partiti che nel frattempo hanno anche perso il loro ruolo predominante per quanto riguarda le risorse economiche investite in politica quindi fondazioni think tank o altre organizzazioni start up politiche più diverse spesso collegati a singoli individui e singoli attori politici sono diventati elementi sempre più presenti nella costellazione delle organizzazioni che in Italia si occupano di politica e questa proliferazione di organizzazioni ha reso anche più complesso monitorare e regolamentare quali donazioni sono compatibili con un contesto plurale democratico e quali invece sono problematiche quali requisiti di trasparenza di quali requisiti di trasparenza vi è effettivamente bisogno in un contesto in cui le donazioni private dovrebbero essere sempre più importanti oggi appunto vogliamo in primo luogo presentare un po' il quadro della situazione offrire un quadro ma anche parlare di soluzioni di proposte per migliorare l'attuale stato delle cose alcune delle soluzioni che ci immaginiamo passano da scelte politiche difficili nel contesto politico attuale se il 2 per 1000 non ha funzionato come ci si aspettava quindi i fondi che arrivano ai partiti e ai movimenti politici ai partiti in realtà attraverso il 2 per 1000 sono molto meno di quanto ci si aspettava se la cittadinanza in modo diffuso sembra essere reticente a fare donazioni alla politica beh forse prima o poi arriverà il momento di fare una valutazione di ragionare nuovamente se vi sia o meno la necessità di introdurre meccanismi di finanziamento pubblico alternativi o altre soluzioni come quelle che suggeriva poco fa Raffaelli anche se quel momento probabilmente non è ancora giunto ne parleremo però insomma il contesto politico evidentemente in questa fase non è favorevole a questo tipo di dibattito invece in questi ultimi anni si è parlato tanto di trasparenza sono state fatte tante nuove leggi quindi il legislatore ha dimostrato interesse e vivace attività su questo fronte quindi con una serie di leggi successivi che hanno cambiato i criteri per la trasparenza e i criteri una reglamentazione delle donazioni in senso più ampio quindi questo è davvero il tema di cui parleremo oggi ne parlerà Irene Pellizzone professore associato di diritto costituzionale all'università degli studi di Milano che ci fornirà un quadro delle modifiche avvenute in questi anni più che altro un quadro giuridico sulla situazione ce ne parlerà Daniele De Bernardin di Open Police mentre Mattia Diletti professore aggregato alla Sapienza di Roma affronterà in particolare la questione dei think tank e infine Federico Anghele di Riparte il Futuro forse dovrei già dire The Good Lobby parlerà del ruolo della società civile in questo contesto e facendo riferimento ad altre problematiche attigue come appunto lobbying in prevenzione della corruzione ma anche insomma di altri dibattiti avvenuti insomma su questi temi recentemente in Italia insomma quindi dopo questo diciamo primo giro di interventi e accenerò brevemente ad alcune proposte di soluzione a cui abbiamo pensato in questi giorni chiederò un parere ai relatori e poi naturalmente vi sarà spazio per domande dai presenti quindi questo è il quadro passo subito la parola a Irene per le azioni buongiorno a tutti e grazie molto per l'invito questa occasione di confronto sicuramente per me molto interessante rispetto a queste due introduzioni sicuramente condivido l'idea per cui la abolizione del finanziamento pubblico diretto ci impone oggi di puntare i fari di puntare l'attenzione sul finanziamento privato che nonché in passato magari non abbia costituito un problema ma oggi diventa assolutamente ineludibile rispetto appunto a controlli trasparenza e al fine di eliminarne l'opacità e di sicuro il contesto diciamo del sistema partitico italiano e il contesto anche costituzionale sono degli elementi che non ci aiutano in questo senso perché in realtà come è stato sottolineato dal presidente nell'introduzione all'articolo 49 della costituzione l'occasione è anche per me che mi occupo di diritto costituzionale troppo ghiotta per non dire due parole anche se prescinderemo per un momento dal finanziamento impone che i partiti concorano a determinare la politica nazionale con metodo democratico e questa norma è sempre stata interpretata anche per così volere della componente comunista dell'assemblea costituente come una norma che impone il metodo democratico all'esterno dei partiti politici e quindi si è affermata in Italia la conformazione dei partiti politici come associazioni non riconosciute ognuna delle quali naturalmente in quanto tale ha la sua specificità e questo quindi ha reso oggi forse come non mai il contesto dei singoli partiti politici molto variegato e ovviamente la modifica del 2013 del cosiddetto decreto letta che ha appunto compiuto il passaggio verso l'abolizione del finanziamento pubblico diretto ha cercato però di favorire attraverso l'iscrizione dei partiti nel registro nazionale a fine di poter accedere al finanziamento pubblico indiretto cercare di avviare delle regolarità in modo forse da portare nel lungo periodo ad una uniformazione della struttura organizzativa dei partiti o comunque ad avere degli elementi ricorrenti in tutti i partiti iscritti al registro nazionale questa è un po' la logica di fondo che da un certo punto di vista mi sembra interessante anche perché attraverso questa sia pur appunto parziale e diciamo così istituzionalizzazione dei partiti che si iscrivono al registro nazionale è possibile poi favorire maggiori controlli sul finanziamento però questo tipo di direzione che è stata presa dal decreto legge 149 del 2013 non deve portare a trascurare poi il finanziamento dei partiti che decidono di non iscriversi al registro nel senso che poi l'effetto è stato quello di una ampia adesione alla possibilità di iscriversi al registro anche in conseguenza della possibilità di accedere al finanziamento pubblico indiretto in un momento in cui i partiti sono poveri e hanno bisogno di finanziamenti però allo stesso tempo ci sono autorevoli eccezioni come appunto il Movimento 5 Stelle quindi da questo punto di vista subito segnalo che il mio intervento vorrebbe arrivare a sottolineare l'importanza di evitare delle improprie divaricazioni tra appunto attenzione ai finanziamenti privati che arrivano ai partiti che sono iscritti al registro e che quindi devono sottostare a tutta una serie di obblighi aggiuntivi rispetto a quelli che non si iscrivono al registro perché secondo me da questo punto di vista l'affastellamento di varie normative come segnalato anche nell'introduzione è problematico ecco ciò premesso ovviamente è inutile che venga a sottolineare la scarsità dei finanziamenti pubblici indiretti ottenuti attraverso il 2 per 1000 penso che poi ce ne occuperemo più tardi e quindi la ovvietà a cui giungo è proprio che bisogna dare attenzione al finanziamento privato in questo senso mi avviso sia la legge 3 del 2019 la cosiddetta spazzacorrotti sia il decreto legge crescita hanno cercato di intervenire in modo abbastanza razionale anche se poi ci sono delle specificità di entrambi gli interventi normativi che potrebbero essere segnalate in quanto problematiche infatti diciamo che da questo punto di vista l'abbassamento ad esempio delle soglie a 500 euro di tutti i finanziatori privati tali per cui poi il singolo partito deve comunicare alla commissione di garanzia degli statuti della trasparenza dei rendiconti dei partiti politici tutti i singoli finanziatori che hanno finanziato con erogazioni superiori a 500 euro quindi nominativi il momento del finanziamento e questo porta sicuramente ad un importante incremento di trasparenza dei finanziatori privati e poi appunto tali elenchi dei finanziatori privati sono pubblicati sul sito della Camera su cui come è stato sottolineato da Nicolò Caranti anche in una sua recente pubblicazione c'è quindi questo maxidocumento di più di 300 pagine che riporta per ogni non solo per ogni partito ma anche per ogni comitato o fondazione infatti un altro aspetto molto importante ovviamente della legge 3 del 2013 la cosiddetta spazza corrotti è quella di aver equiparato estendendo la definizione ai partiti politici comitati fondazioni adesso non sarei a ripetervi il contenuto della norma perché se no ci andiamo a perdere nei dettagli normativi però proprio in base anche a quello che è stato appena sottolineato anche il nuovo modo i partiti si adattano molto velocemente alle modifiche diciamo del contesto politico sociale non necessariamente alle modifiche del contesto normativo però questo nuovo modo di fare politica attraverso queste fondazioni in continua evoluzione ci impone ovviamente di fare molta attenzione anche ai finanziamenti privati che queste fondazioni ricevono e questa equiparazione è fondamentale però qual è il risultato cui equiparazione a fini degli obblighi di comunicazione per cui anche coloro che erogano finanziamenti superiori a 500 euro queste fondazioni che sono in vario modo collegate o collegabili ai partiti politici poi vengono inclusi in questo maxi elenco che viene pubblicato sul sito della Camera dei Deputati e giustamente Nicolò Caranti diceva ma c'è coerenza rispetto al dettato legislativo e a questo maxi documento probabilmente c'è un primo problema di fondo che è dovuto ad una sorta di eccesso di trasparenza che porta ad un'opacità per confusione nel senso che appunto vengono riportati tutti questi questi dati ed è difficile poi proprio anche per la mastodonticità di questo documento riuscire a effettuare un controllo comunque sicuramente è positiva questa pubblicazione poi anche capire chi sono i soggetti che sono chiamati a presentare questi dati tenuto conto che segnalo appunto questa divaricazione nell'attuale assetto normativo che sottopongo alla vostra attenzione dal lato appunto abbiamo i partiti che chiedono e ottengono l'iscrizione nel registro nazionale dei partiti in quanto sottopongono i loro statuti ad un controllo da parte di questa commissione della commissione di garanzia che dovrebbe verificare sia la correttezza la formale dei rendiconti da una parte di tutti i partiti che appunto partecipano alle elezioni ma anche appunto la presenza di ulteriori requisiti di democraticità diciamo così dei partiti che chiedono di scriversi a questo registro per avere il 2 per 1000 e le agevolazioni fiscali e a questo punto appunto questa commissione quindi automaticamente verifica questi requisiti e prevede questo obbligo di pubblicazione ma lo fa solo per i partiti che sono iscritti al registro almeno a mio avviso la normativa attualmente vigente distingue questo obbligo e lo limita ai partiti iscritti al registro anche se poi la prassi è in un senso diverso nel senso che in questo documento vediamo che hanno presentato i dati degli erogatori dei donatori di erogazioni superiore a 500 euro anche altri soggetti oltre quindi ai comitati e alle fondazioni che sono ricollegabili ai partiti politici questa è una situazione abbastanza confusa la legge 3 del 2019 cosiddetto spazzacorrotti che cosa fa quando equipare i comitati e le fondazioni ai partiti politici ai fini di questi obblighi per i comitati e le fondazioni utilizza una equiparazione che prescinde dall'appartenenza del partito a cui i talienti sono collegati appartenenza al registro quindi da un lato abbiamo una massima espansione da un punto di vista legislativo dell'obbligo per i comitati le fondazioni equiparati ai partiti politici dalla legge mentre per i partiti in sé l'obbligo di pubblicazione dell'elenco degli erogatori è limitato ai partiti scritti al registro quindi segnalo questa divaricazione che a mio avviso è paradossale perché questa distinzione l'attenzione alla trasparenza al finanziamento privato ai partiti politici dovrebbe essere a 360 gradi poi ecco questo è un punto che segnalo dall'altro lato la legge proprio al fine la legge 3 del 2019 al fine di favorire al massimo questo tipo di pubblicità ha previsto anche che si ritenga automaticamente rilasciato diciamo così il consenso dell'erogatore alla pubblicazione del suo nominativo tra i donatori di quel partito quindi da questo punto di vista anche la legge rende tutto molto più semplice invece nel senso che non è necessario ogni volta mentre prima si era previsto un tetto una soglia superiore per questioni legate alla tutela della riservatezza comunque la sensibilità politica viene ritenuta un dato sensibile una parte della personalità che viene ritenuta naturalmente da proteggere invece in questo caso anche ragione dell'interesse pubblico a conoscere poi chi sono i finanziatori vediamo la legge opera questo tipo di presunzione si presume che il consenso sia stato rilasciato altrimenti addirittura il partito non può ricevere questo tipo di finanziamento questo è sicuramente significativo alcuni costituzionalisti in realtà segnalo che hanno anche il garante per la privacy in un'audizione relativa a questa legge hanno segnalato come indifferente trattamento di tutte le donazioni da 500 euro in su alla fine della protezione del dato sensibile forse possa essere problematico da un punto di vista costituzionale dove appunto la riservatezza è un bene costituzionalmente rilevante anche alla luce di alcuni standard europei però sicuramente si tratta di un aspetto molto significativo ecco questi sono appunto li sottopongo alla vostra attenzione come obblighi in riferimento alla trasparenza dei finanziatori privati poi dall'altra parte invece abbiamo tutti gli obblighi stabiliti molto importanti dalla normativa numero 96 del 2012 in relazione ai rendiconti e consuntivi per partecipare alle elezioni per cui i partiti devono inviare alla commissione i rendiconti delle relazioni devono prevedere che una società di revisione analizzi la regolarità dei rendiconti poi tali rendiconti sono pubblicati anche sul sito internet del partito anche questa è una previsione significativa teoricamente di una maggiore trasparenza sicuramente però ecco poi l'effettività di queste norme è tutta da vedere nel senso che la stessa commissione di garanzia questo è un punto che rimane tutto radolente nonostante una legge del 2017 questa commissione come immagino saprete è composta da 5 membri tra dei quali sono consiglieri della Corte dei Conti uno del Consiglio di Stato e uno della Corte di Cassazione che ha segnalato anche attraverso la dimissione come dire contestuale di tutti i suoi membri se non erano nel 2014 perché non c'erano delle strutture del personale di supporto stabili non riusciva poi a ottemperare tutti questi obblighi quindi al di là poi delle incertezze normative che ho cercato di segnalare rispetto a questa divaricazione a mio avviso molto problematica tra partiti iscritti e partiti non iscritti quanto alla pubblicità dei finanziatori al registro quanto alla pubblicità dei finanziatori privati poi c'è un altro punto quello della effettività dei controlli da parte della Commissione che poi è anche titolare di potere di sanzione e l'effettività dei controlli deriva ovviamente questa è una considerazione di fatto dalla possibilità della Commissione di avvalersi di personale di una struttura sufficiente da svolgerli come questa Commissione può andare a chiedere a tutti i comitati a tutte le sezioni territoriali dei partiti anche se soggette agli obblighi i dati questo è già un problema di per sé mastodontico e appunto la Commissione è stata poi anche da ultimo aggravata di nuovi compiti quindi un problema di effettività anche dovuto al numero di compiti che ha la Commissione d'altra parte a me sembra comunque che la direzione ad esempio di estensione alle fondazioni e ai comitati probabilmente novietà dell'ecuperazione ai partiti sia nella direzione giusta come sia nella direzione giusta anche ovviamente la previsione di vieti per finanziamenti provenienti dall'estero che prima insomma nel passato anche a cui ha fatto riferimento il Presidente si ritenevano assolutamente leciti e invece sicuramente sono giustamente sotto i fari a seguito della legge numero 3 del 2019 quindi concluderei forse ho parlato sin troppo sottolineando che ora è importante a partire da un dato legislativo che secondo me comunque nel 2019 è in parte migliorato cercare di intanto implementare la struttura su cui questa Commissione può fare conto dall'altro lato cercare di puntare anche i fari sulla nozione di trasparenza che non deve portare ad esempio ad un'opacità per confusione per cui nel dubbio si pubblica un po' tutto nel dubbio si mandano i dati alla Commissione e poi tenere conto della difficoltà poi di applicazione di queste norme in un Paese come il nostro in cui il contesto partitico è estremamente variegato ma in cui è fondamentale avere degli standard di trasparenza seri anche per la frequenza con cui i partiti cambiano si trasformano in partiti diversi passano i fondi da un partito all'altro c'è uno studio da questo punto di vista di Emanuele Chiaramonti che è stato pubblicato su PartyPolitics che sottolina come gli standard con cui di nuovi partiti nel nostro ordinamento nuovi anche all'indomani rispetto ai grandi partiti insomma fermati sia all'indomani della seconda guerra mondiale sia quasi un unicum italiano ma proprio per questa continua trasformazione la trasparenza è più difficile da raggiungere ma sicuramente vitale grazie 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 Irene Pellizzone per questa introduzione per aver evidenziato ancora una volta l'importanza della trasparenza ma anche l'importanza che gli enti preposti a verificare l'implementazione della legge sulla trasparenza siano in grado di funzionare correttamente questo è effettivamente un grande problema su cui probabilmente ritorneremo allora passo la parola a Daniele Bernardir di Open Police probabilmente ti lascio il posto così fisicamente per controllare il computer che presenterà i dati raccolti da Open Police in questi anni e ci presenterà alcune delle problematiche emerse rispetto a questi dati e come vengono condivisi dove parlo? allora innanzitutto buonasera grazie a chi ci ospita per ospitarci io sono Daniele De Bernardin lavoro a Open Police non so insomma se si dà conoscenza del nostro lavoro Open Police ormai attiva da una decina d'anni si occupa di numerose insomma ci muoviamo su numerosi campi tutti accomunati dall'importanza dei dati e dei dati soprattutto che riguardano i cittadini e nel credo che i dati che riguardano i cittadini vadano restituiti ai cittadini in formati comprensibili e leggibili la nostra principale area di attività è proprio la politica e da tantissimi anni raccontiamo quello che succede nello scenario politico italiano con una serie di iniziative da Open Parlamento che è una delle nostre prime piattaforme che permette di monitorare tutto ciò che avviene nel Parlamento italiano alle più recenti iniziative come Open Bilanci per i dati dei bilanci comunali e così via e ci occupiamo soprattutto del tema di come funziona il sistema politico e soprattutto di come sta cambiando il sistema politico in seguito all'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti iniziato nel 2013 e in questi anni abbiamo raccontato come sono cambiate le casse dei partiti e come sono emersi in questi ultimi mesi dei nuovi soggetti che a loro modo stanno iniziando a influenzare il dibattito politico non è un caso se la legge che abbiamo citato varie volte l'anticorruzione lo spazio corrotto scusate che è andato a intervenire sul tema delle associazioni e delle fondazioni politiche cita uno dei nostri lavori come uno dei pochi sul tema delle associazioni politiche c'è il nostro censimento sulle associazioni e fondazioni politiche attive in Italia un censimento che ne portiamo avanti dal 2015 che per quanto insomma ci faccia piacere che il governo abbia deciso di citarlo nel preambolo della legge però vi fa capire quanto sia poca insomma il materiale di ricerca sulla questione qui Mattia è uno dei pochi che se ne è occupato in Italia però a livello di focus politico il discorso e il dibattito è pari a zero e infatti le leggi che abbiamo visto sulla materia sono state fatte in maniera molto molto frettolosa come abbiamo raccontato in vario modo dal 2013 è un po' cambiato tutto quello che è fare politica in Italia perché l'abolizione del finanziamento pubblico diretto è stata fatta in maniera molto frettolosa senza pensare alle conseguenze e quello che insomma andremo a vedere nella presentazione di oggi è come questo evento abbia cambiato le casse dei partiti come si è cambiato il modo di fare politica in Italia oggi e come le soluzioni di trasparenza di cui abbiamo parlato fino ad oggi in realtà siano una presa in giro ecco se c'è una cosa che penso sia importante portare a casa da questo mio intervento è che fare comunicazione non vuol dire fare trasparenza e questo è un male ricorrente della politica italiana soprattutto quando si parla di finanziamento della politica perché quello che si è imposto ai partiti è fare comunicazione che non vuol dire in nessun modo fare trasparenza e vedremo il perché con l'intervento di oggi un po' di dati qui è l'andamento delle entrate dei partiti dal 2013 al 2018 come possiamo vedere il 2013 è stato il primo anno in cui gradualmente è stato abolito quello che è il rimborso elettorale che era il principale modo di finanziare i partiti come possiamo vedere le casse dei partiti si sono molto velocemente svuotate anno dopo anno questo ovviamente è stato un problema perché fare politica ha un costo non si fa politica così per passare il tempo per poi dire una cosa molto complicata che richiede ai partiti molto impegno si è cercato di rimediare alla mancanza di un finanziamento pubblico con il finanziamento indiretto alla politica quello che è il 2x1000 e cercando di regolamentare un po' meglio quello che erano le donazioni da parte dei privati però quello che andremo a vedere è che entrambi questi metodi in realtà non stanno andando da nessuna parte in primis perché il 2x1000 come abbiamo già accennato è un esperimento che sta fallendo di fatto come potete vedere da questo grafico ogni anno l'ammontare che viene raccolto dai partiti è inferiore rispetto a quello che viene stanziato dal governo questo cosa vuol dire vuol dire che le scelte dei cittadini sono molto poche i cittadini che decidono di dare i soldi ai partiti sono molto pochi questo perché da un lato i partiti non sono stati capaci di mettere in piedi delle campagne di comunicazione che convincessero i cittadini a donare ai partiti dall'altro perché il clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni è sempre molto forte e quindi i cittadini attraverso il 2x1000 non si sentono pronti a riniziare quel rapporto fiduciario fondamentale alla base del rapporto democratico fra partiti e cittadini stesso discorso vale per le donazioni ai partiti sempre dal 2013 ad oggi le donazioni private ai partiti sono crollate qui lo vediamo in maniera abbastanza chiara come se non bastasse il dato delle persone fisiche che donano ai partiti è drogato se vogliamo dirlo perché sono principalmente i parlamentari che donano ai partiti stessi perché quando tu vieni eletto in un incarico di rappresentanza politica come il Parlamento per statuto devi donare 1500 euro 2000 euro al mese al partito che ti ha fatto entrare in Parlamento questo droga pesantemente i dati delle donazioni dei privati ai partiti perché ci fanno vedere quanto sono realmente se vogliamo utilizzare giocare di immaginazione sempre finanziamento pubblico perché se il parlamentare è costretto a utilizzare lo suo stipendio che è dato dallo Stato per finanziare le casse dei partiti è un giroconto ma parliamo sempre di finanziamento pubblico ai partiti questo è ennesima prova che il finanziamento privato in Italia ad oggi non riesce ancora a esplodere questo ha delle ripercussioni drastiche sulla nostra democrazia perché i partiti sono il cuore della nostra rappresentanza politica i partiti sono in evidente crisi economica però come abbiamo detto prima fare politica ha un costo quindi come si risolve questo problema che è al cuore della nostra democrazia in vario modo stanno emergendo diversi attori che alcuni già c'erano come i gruppi parlamentari come possiamo vedere da questo grafico ormai i gruppi parlamentari sono il modo principale che hanno i partiti per fare per incassare del denaro ci siamo spenti ci siamo di nuovo per incassare incassare denaro questo perché è giusto sottolinearlo perché si sta sempre di più testimoniando un utilizzo improprio dei fondi per i gruppi parlamentari se voi venite a leggere le relazioni dei gruppi parlamentari quando consegnano il loro bilancio la stragrande maggioranza di loro dichiarano in maniera netta che utilizzano quei fondi per organizzare eventi di partito lo fa il partito democratico per finanziare i banchetti alle feste dell'unità lo fa Fratelli d'Italia quando dichiara che finanzia Treiu attraverso i fondi dei gruppi parlamentari ora tutte queste cose possono essere considerate legittime se viviamo in un sistema in cui il finanziamento pubblico è ancora il modo principale di fare soldi nella politica italiana ma visto che il finanziamento pubblico diretto è stato teoricamente abolito è chiaro che la politica si diceva prima si adatta molto velocemente e quindi chiuso una fonte di entrate ci si sposta verso l'altra principale fonte di entrate per i partiti che sono i contributi che i gruppi parlamentari ricevono per portare avanti le loro attività istituzionali un'altra un'altra realtà che sta emergendo di cui abbiamo già parlato è proprio quella dei think tank delle fondazioni delle associazioni politiche noi come Open Police ormai dal 2015 le stiamo censendo ne abbiamo raccolte ormai più di 120 di strutture tra cui quella in cui ci troviamo in questo momento che la fondazione che non la ha preso in bene cosa accomuna queste strutture noi abbiamo iniziato a fare questo censimento più per una provocazione perché in Italia nel 2015 non c'era una legge come quella che c'è adesso e quindi abbiamo iniziato a raccogliere tutte quelle strutture che avevano almeno un politico negli organi apicali strutture che sono comunque accomunate dal fatto che raccolgono fondi che fanno formazione politica che organizzano eventi come quello in cui siamo in questo momento e che fanno networking ora tutti questi elementi se voi li guardate uno ad uno sono gli elementi che dovrebbero caratterizzare un partito perché i partiti nascono per raccogliere fondi fare formazione politica organizzare eventi fare networking questo cosa vuol dire? vuol dire che le associazioni politiche si stanno sostituendo i partiti perché i partiti purtroppo non hanno più quei soldi che avevano prima per portare avanti le proprie iniziative ora vi cito due esempi ve ne potrei citare tanti altri di esempi lampanti di quanto le associazioni le fondazioni politiche stiano cambiando il modo di fare politica in Italia allora uno dei protagonisti insomma i principi di questa fase politica chiaramente è Matteo Renzi ecco Matteo Renzi nelle sue due ascese politiche che ha portato avanti la prima che l'ha portato a essere eletto segretario del Partito Democratico e la seconda più recente che l'ha portato alla nascita di Italia Viva entrambi queste fasi politiche sono state anticipate dall'utilizzo di associazioni politiche e fondazioni politiche per raccogliere fondi aggregare organizzare eventi e fare formazione politica il caso della fondazione Open che ormai è stata è stata chiusa era la fondazione con cui Matteo Renzi ha organizzato tutte le leopolde e ha raccolto fondi che poi l'hanno portato a quella base che l'ha eletto segretario del Partito Democratico e ultimamente recentemente questa è un'analisi che abbiamo fatto sulle donazioni che i comitati azione civile perché così si chiamavano l'ultima creazione di Matteo Renzi per la nascita di Italia Viva queste erano le donazioni che i comitati hanno ricevuto fino ad agosto perché poi a settembre è nato ufficialmente il partito ecco come possiamo vedere nel giro di sei mesi questa realtà ha raccolto più di 500 mila euro da nulla utilizzando i network legali che ci sono di fare politica in Italia perché tutto ciò di cui sto parlando è legale non c'è niente di legittimo è tutto perfettamente legittimo di fatto lo possiamo raccontare e possiamo raccontarvi quello che sta succedendo però ci certifica che sta cambiando tutto perché uno dei principali leader politici italiani che per ben due volte nel giro di sei sette anni ha autorizzato delle strutture che non sono partiti sono parallele ai partiti per raccogliere fondi e prepararsi la strada per ufficializzare la nascita di un'esperienza politica un altro esempio per noi lampante è quello del Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle come abbiamo detto prima non è iscritto neanche al registro dei partiti perché ufficialmente per la definizione italiana di partito il Movimento 5 Stelle non è un partito ma proprio perché con l'abolizione del finanziamento pubblico abbiamo in un certo senso velocizzato un proliferarsi dei soggetti politici il Movimento 5 Stelle è proprio questo se guardiamo il bilancio del partito Movimento 5 Stelle che non esiste quindi dell'associazione Movimento 5 Stelle come possiamo vedere da questo grafico le entrate dell'associazione sono pari a zero ora è verosimile che quello che è attualmente il più grande partito in Parlamento faccia politica senza entrate no chiaramente non è verosimile quindi per capire realmente quella che è la portata economica di un partito bisogna guardare a tutte queste strutture perché questo vuol dire abolire il finanziamento pubblico in Italia vuol dire che uccidi tra virgolette i partiti e dai campo a tanti diversi modi di raccogliere soldi e fare attività politica quindi bisogna guardare al bilancio dei gruppi parlamentari alla Camera e al Senato parliamo di 8 milioni da un lato 5 milioni dall'altro dobbiamo guardare all'associazione Rousseau che è quella che come sappiamo tiene in vita la piattaforma Rousseau e per cui i parlamentari sono costretti a donare ogni mese dei soldi dobbiamo guardare ai comitati politici perché il Movimento 5 Stelle ogni elezione nazionale crea un nuovo comitato politico per finanziare la campagna elettorale dobbiamo guardare all'associazione Casaleggio che è nata più recentemente che come sapete organizza ogni anno SAM che è un evento una kermesse di dibattito politico che è una festa di partito fondamentalmente però non è organizzata da un partito ma è organizzata da un'associazione satellite del Movimento 5 Stelle questo è un modo per fotografare quanto è diventato complesso analizzare il finanziamento della politica oggi perché se prima il soggetto era uno adesso i soggetti sono 7 e questo chiaramente complica di molto la nostra capacità di monitorare il sistema politico e quindi lo rende molto più vulnerabile ora un esempio su perché dicevo che comunicazione non vuol dire fare trasparenza tutti questi soggetti a vario modo hanno degli obblighi di trasparenza cioè devono comunicare una serie di informazioni allo Stato alla Camera al Senato alla Commissione per il controllo dei bilanci che poi li deve pubblicare e mettere a disposizione ora queste pubblicazioni noi le abbiamo analizzate vere volte sono letteralmente una presa in giro nei confronti dei cittadini queste per esempio sono dei documenti ufficiali che due membri del Parlamento mi pare Fiano e Laboschi ma solo perché erano due casi molto lampanti hanno consegnato alla Camera e al Senato come i loro contributi ricevuti durante la campagna elettorale che li hanno portati in Parlamento ora chiedo a voi se è verosimile pensare che un parlamentare nel 2018 perché questo è il 2018 può consegnare un documento del genere come un documento ufficiale di rendicontazione per i fondi ricevuti durante una campagna elettorale era un PDF scansionato male perché la qualità del foglio mi sembra abbastanza a dir poco illegibile ha fatto all'ultimo momento con molte parti che sono pecettate perché vengono coperti alcuni dati alcuni dati sono sensibili quindi è anche legittimo cancellarli ma in altri casi quando si cancellano completamente le informazioni rende la pubblicazione dell'informazione abbastanza controproducente o nel caso qui a destra in cui anche qua una dichiarazione di aver ricevuto 20.000 euro da un donatore la cui identità viene cancellata lo stesso documento ufficiale poi viene con una penna cancellato 20.000 euro e scritto 9.000 euro ora questo è un documento ufficiale questo per le istituzioni italiane vuol dire fare trasparenza sulle donazioni di privati e non ho preso queste informazioni da un sito X le ho prese dalla scheda dell'onorevole sul sito della Camera o del senato sul sito del senato questo è il modo di fare trasparenza in Italia e ancora i bilanci dei partiti come abbiamo raccontato prima i partiti devono pubblicare i loro bilanci online questi sono solo due esempi il Partito Democratico e il Lega Nord sono per carità di Dio dei pdf qui leggibili però sono fatti con dei formati differenti non vengono forniti dei dati che sono analizzabili perché se uno vuole analizzare la materia deve avere quantomeno dei dati riutilizzabili quindi un file Excel per esempio anche qua sono dei file pdf che per essere analizzati vanno trascritti a mano e fatto un lavoro i data entry a mano anche qua è un'assurdità che nel 2019 il modo di fare trasparenza delle istituzioni è pubblicare un pdf leggibile sì leggibile no ma assolutamente non rende possibile una vera analisi una vera comprensione della materia e arriviamo infine alla commissione di cui abbiamo tanto parlato prima che è incaricata di controllare su tutto questo ogni anno la commissione rilascia una relazione alla Camera e al Senato in cui grida aiuto una commissione che è appunto composta da 5 magistrati che non ha i mezzi per portare avanti il proprio lavoro perché sono 5 persone che non hanno proprio l'infrastruttura e non hanno anche l'autonomia economica e giuridica per portare avanti il proprio lavoro che dal inizio del 2019 gli è stato chiesto di iniziare a monitorare tutto il mondo delle associazioni e delle fondazioni politiche che per farvi capire di cosa stiamo parlando si definisce associazione politica un'associazione che è composta per un terzo negli organi direttivi da una persona che ha avuto un incarico politico negli ultimi 6 anni nel Parlamento Europeo nazionale regionale e nei comuni con più di 15.000 abitanti ora potete bene immaginare che questa definizione è enorme e la Commissione stessa non ha i mezzi per monitorare su tutto questo è chiaramente un controsenso imporre delle regole di trasparenza su se chi deve controllare non è capace a controllare su quello che sta succedendo chiudo con tre punti che sono anche un po' degli spunti di riflessione per il resto del nostro pomeriggio è evidente che dei partiti più deboli come stiamo vedendo portano a una democrazia più debole e quindi a un sistema più vulnerabile se i partiti non sono più capaci di pagarsi le bollette alla fine del mese e quindi sono costretti a utilizzare altri modi per finanziare le loro attività quindi con associazioni fondazioni comitati diventano più vulnerabili anche infiltrazioni esteri interni quello che volete ma è chiaro che sono molto più vulnerabili abbiamo abolito il finanziamento pubblico in Italia ma non abbiamo mai fatto una riflessione su il finanziamento privato per farvi un esempio Toti che ha lanciato recentemente il suo partito Cambiamo anche lui ha fatto utilizzo di un'associazione politica il comitato Change per accogliere soldi sempre perché le informazioni sono pubbliche quindi lo sappiamo sappiamo che ha ricevuto 100.000 euro dalla Mobi S.P.A. ora ci va bene che un governatore di regione riceva 100.000 euro da una grande azienda che organizza viaggi in Crocena e questa regione ha pure dei porti e questa regione è la Liguria non lo so è un dibattito che va fatto è una riflessione che in Italia purtroppo però non è mai stata portata avanti queste informazioni ora le sappiamo però ancora una volta saperle non risolve il problema dobbiamo capire se ci va bene sapere questa cosa e l'ultimo punto è proprio questo cioè le leggi per la trasparenza che sono state approvate in Italia negli ultimi anni sono un blef perché i dati non sono utilizzabili sono fatte per riempire le prime pagine dei giornali dicendo ok i partiti devono pubblicare i bilanci le fondazioni sono equiparate ai partiti ma di fatto i dati che vengono pubblicati non sono utilizzabili e le strutture che devono monitorare su queste realtà non hanno i mezzi per monitorare e per fare il proprio lavoro quindi stiamo un po' al punto di partenza nel senso che la fase di transizione che è stata avviata con il 2013 adesso a sei anni di distanza ci vede essere in una situazione molto confusa e non sana per la nostra democrazia grazie 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 davvero a Daniele Bernardin per questo intervento naturalmente OpenPolice non ha bisogno credo di presentazioni in questo contesto ma è una testimonianza davvero importante ci tengo anche a aggiungere una battuta abbiamo visto questi PDF scannerizzati male dicono i dati ci sono però chiunque di noi si sia trovato ad analizzare i dati si rende presto conto del fatto che davvero è una follia immaginare che si è bisogno di un esercito di Emanuensi sia tra gli analisti e tra i giornalisti nella stessa commissione che ha l'obbligo e la competenza di analizzare quei dati di riscriverli di trascriverli non stiamo parlando di una paginetta sono centinaia parlamentari sono tantissime organizzazioni non sappiamo neppure quante sono organizzazioni che devono sottostare a questi obblighi e questo è parte del problema e poi questi dati vengono costantemente aggiornati insomma adesso il documento che c'è ora sul sito della Camera è di oltre 700 pagine ogni mese si aggiungono decine di pagine ci immaginiamo davvero che questo possa avvenire in un modo sensato senza insomma nelle attuali condizioni non vi è alcun bisogno insomma se vi fossero degli standard diciamo a vedere questi dati il lavoro di tutte le parti coinvolte che siano studiosi analisti o che siano appunto gli organi preposti a effettuare il controllo potrebbero lavorare in un modo molto migliore sicuramente da subito la parola Macchia Di Letti allora grazie mille grazie per l'invito veramente è sempre molto interessante discutere questo argomento e io sono affezionato poi a questo luogo in particolare dove abbiamo fatto tante cose di solito in queste occasioni mi gioco sempre la stessa battuta che è la citazione di uno strategist uno dei primi strategist delle campagne elettorali americane Mark Hanna che aiutò McKinley a diventare presidente nel 1896 dicendo in politica contano due cose una sono i soldi l'altra non me la ricordo e il insomma era un la questione sembra essere ancora piuttosto cogente e tra l'altro mi sta venendo in mente che noi stiamo parlando solo del livello nazionale perché poi il vaso di Pandora del livello locale non lo stiamo aprendo che è una cosa ancora quello che è stato e quello che sarà diciamo il e mi immagino però anche la difficoltà di alcune di queste associazioni gruppi nel gestire anche loro stessi nel gestire quello che stanno facendo perché secondo me alcuni moriranno saranno preoccupatissimi e terrorizzati di quello che danno come darlo come fare quindi c'è una come dire una difficoltà generale nell'affrontare la questione che non riguarda solo il piano nazionale allora io su questo sarò prima di discutere del tema che mi è stato assegnato vorrei dire come la penso secondo me l'abolizione del finanziamento diretto ai partiti è stato un errore molto molto serio un errore che pagheremo e probabilmente questo errore verrà sanato come accadde nel 74 con la legge piccoli quando di fronte ad uno scandalo gigantesco si dovrà ridiscutere la questione più o meno andiamo a cicli e a un certo punto tornerà arriverà il momento in cui il ciclo andrà in questa direzione non vedo altre possibilità perché appunto la politica costa e va finanziata insomma la questione andava trattata in altro modo ma evidentemente nel 2013 2014 le pressioni erano troppo forti per andare da un'altra parte ed era tanto tempo che era così quindi detto questo tra l'altro torno su un punto che è stato citato la questione dell'articolo 49 della Costituzione proprio qui Luigi Ferraioli fece una proposta per un articolato di legge per dare sostanza a quell'articolo della Costituzione per non solo parlare per rendere i partiti più democratici proprio per sanare quella vecchia idea appunto che la questione democratica riguardasse la competizione e non tanto la questione della democrazia interna in cui trasparenza per me vuol dire anche cose che riguardano la democrazia interna dei partiti e la questione prima o poi dovrà essere posta di nuovo perché anche il fatto che ci si possa iscrivere o non iscrivere al registro e partecipare a una competizione elettorale è una questione piuttosto insomma mi sembra un bonus grosso detto questo allora io ho qui delle slide che utilizzo sempre in questa occasione piuttosto vecchie ma servono a spiegare la questione innanzitutto di cosa parliamo quando parliamo di think tank e fondazioni politiche e di cosa parliamo quando si parla di queste nel caso italiano allora i think tank sono un tipo di organizzazione di derivazione americana noi usiamo questa definizione per descrivere una cosa che in America si chiama serbatoio di pensiero che ha tutta un'altra storia e che nasce proprio come luogo di incontro fra business accademia amministrazione e politica che nasce come un luogo di diplomazia parallela per creare idee comuni e proposte comuni all'interno dell'elite quindi è una cosa che in Italia non c'era perché in Italia avevamo dei partiti forti questa è una ricerca del 2011 che noi adesso stiamo ripetendo sui think tank italiani e che svolgiamo tra l'altro col finanziamento di un privato questo è interessante come è nota un finanziamento di un privato che voleva capire cosa stava finanziando sostanzialmente che aveva come dire secondo me il merito di voler capire scientificamente cos'era il prodotto che stava maneggiando in quel periodo perché le fondazioni aumentavano proprio perché questa è la curva che costruimmo allora questi think tank hanno avuto un boom nella cosiddetta seconda repubblica attenzione perché noi facciamo rispetto a Open Police un lavoro un po' diverso nel senso che noi censiamo tutte quelle organizzazioni che fanno ricerca rivolta a influenzare l'opinione pubblica e a influenzare il decisore pubblico quindi dentro ci mettiamo anche attori diversi dai loro non abbiamo le associazioni politiche ma abbiamo fondazioni che hanno un rapporto con la politica pur non avendo politici al suo interno per esempio noi censiamo la fondazione Agnelli che si occupa solo di istruzione per noi è un think tank ma la mettiamo in una sottocategoria diversa rispetto a quelli politici perché qual è stata l'anomalia del caso italiano l'anomalia del caso italiano è che c'è una tipologia specifica del caso italiano che vi faccio vedere qui questi sono sempre i dati del 2011 noi la stiamo aggiornando adesso per partecipare ad una ricerca internazionale che verrà consegnata nel marzo del 2020 la particolarità dei think tank del caso italiano è che queste think tank o fondazioni personali sono il caso dell'anomalia italiana il caso dell'Italia cioè in Italia erano nel 2011 abbiamo trovato 34 fondazioni che erano riconducibili a singole leadership politiche in qualche modo il benchmark di questo tipo di fondazione era stato italiani europei di Massimo D'Alema che nasce agli inizi degli anni 2000 e che rimane il benchmark anche se vi ricordate anche la fondazione Fare Futuro che preesisteva alla presidenza Fini ma che fu lo strumento che Gianfranco Fini utilizzò per lanciare la sfida valoriale politica a Berlusconi all'interno del PDL diciamo in generale questa anomalia italiana è un'anomalia che ha una sua caratteristica queste fondazioni sono nate in realtà ben prima della nuova legge del 2013-2014 quindi è difficile correlare come dire la fine del finanziamento pubblico alla nascita delle fondazioni nascono in realtà c'è un boom dopo un avvio lento c'è un boom a cavallo del 2007-2008-2009 proprio quando nascono si strutturano come partiti il Partito Democratico e il Partito delle Libertà e il PDL cioè quando nascono due grandi partiti contenitore che sostanzialmente sono molto meno strutturati dal punto di vista organizzativo che non cercano necessariamente come dire una convergenza anche politico-culturale su alcuni temi in cui si lascia un ampio margine di manovra alle leadership nazionali di organizzarsi in modo autonomo vi faccio notare anche sta appena modificata in questo senso lo statuto del Partito Democratico quando il Partito Democratico quando esce il nuovo statuto del Partito Democratico c'è proprio un articolo che dà mandato accetta che esista una pluralità di fondazioni attorno a quel partito perché questo significa sostanzialmente che non c'è bisogno di mettersi d'accordo più di tanto sulla visione generale di un partito non ci sono maggioranze o minoranze ma ognuno si aggiusta un po' come vuole poi vediamo cosa fanno queste fondazioni ma questo secondo me suggerisce un po' una tipologia di partiti rispetto all'Italia che possiamo considerare come una sorta di partiti in franchising in quel periodo c'è una leadership molto forte che per un motivo o per l'altro è capace di rassicurare tutti perché attrae i voti e poi le diverse leadership locali o nazionali si organizzano singolarmente ognuno con i suoi strumenti personali e in questo senso utilizzano le fondazioni come uno dei potenziali vettori di organizzazioni che erano organizzazioni di tipo quasi ditte individuali io mi ricordo quando intervistammo Gianni De Michelis sulla sua fondazione di Palmo alla fine gli dice ma lei era d'accordo con l'idea che Tintank sono sostanzialmente una trasformazione in realtà sono le correnti di partito ma magari corrente di partito vuol dire organizzazione un Tintank è una ditta individuale noi da allora abbiamo utilizzato questa formula per sempre perché ci è piaciuto molto e secondo me ci sono tante prove per dire appunto che i partiti sono estremamente destrutturati e quindi si favorisce la formazione di altre organizzazioni esterne ai partiti vi faccio un altro esempio De Luca è l'attuale presidente della regione Campania quando vinse le elezioni primarie Bersani nella provincia di Salerno mi pare che ottenne il 72,3% le primarie mi conferma di traglia dal fondo quando le vinse Renzi nella provincia di Salerno le vinse con il 72,3% allora evidentemente come dire il messaggio è chiaro insomma ognuno il partito suo è tuo finché ci porti tutti avanti le cose vanno bene il partito giù è mio amicizia lunga patti chiari amicizia lunga cosa si fa però dentro queste fondazioni in Italia le fondazioni hanno avute tanti leader appunto ne abbiamo contati di 34 ovviamente sono dei vascelli che le leadership hanno utilizzato per avere un megafono personale le hanno utilizzate per avere relazioni un po' l'americana cioè relazioni con settori dell'economia della società civile dell'accademia dell'amministrazione pubblica hanno svolto una funzione come dire di intessitura di relazioni con l'elite per alcuni sono stati anche uno strumento di lobbying mascherato ovviamente è evidente che questo succede alcuni l'hanno usata anche come semplicemente come luogo delle discussioni altri come raccolta fondi ma non tanto per le campagne elettorali quanto appunto per mantenere in piedi delle macchine personali quindi secondo me se noi andiamo poi ci sono stati anche quelli che hanno avuto una deriva criminale come Fondazione Italia di Alemanno che a un certo punto ha dovuto chiudere però secondo me c'è stato un allarme eccessivo un po' l'ha provocato anche Raffaele Cantone secondo me che su questo ha calcato fin troppo la mano perché giustamente lui diceva dobbiamo vedere cosa succede in queste fondazioni questo è corretto e ci vuole la massima trasparenza però non possiamo immaginare che quegli strumenti proprio di think tank siano in realtà il sostituto funzionale in termini economici di quello che sono i partiti perché il giro d'affari non è così il giro di soldi di queste fondazioni sono 700.000 500.000 800.000 un milione un milione e mezzo quando va bene passatemi la battuta per fare le cose sul serio ne servono 49 no? quindi il è chiaro che queste fondazioni hanno avuto un altro tipo di funzione un po' diverso però il quadro è cominciato a cambiare rispetto a questa nostra fotografia del 2011 dopo questa fase proprio per questo adesso abbiamo cominciato un nuovo censimento abbiamo anzi quasi concluso il nuovo censimento perché innanzitutto sono cambiate le cose nel partito democratico che con la leadership di Renzi è sembrata soprattutto agli interlocutori esterni stabilizzare il PD attorno ad una leadership forte poi le cose vanno sempre in modo diverso però in quel momento la fondazione Open l'ha fatta un po' da padrone e si è inventato anche un altro tipo di veicolo facendola da padrone come dire ha reso economicamente meno interessanti le altre fondazioni facendola da padrone però si è anche inventato un altro vettore che è quello di EIU che era una fondazione interna al partito democratico che era un altro vettore di finanziamento però diciamo non si capiva bene se io volevo avere un rapporto con Renzi andavo su Open andavo sulla EIU parlavo con Bonifazio parlavo con Bianchi ci sono delle indagini anche in questo momento perché c'è un'indagine io non so dove andrà a parare non vorrei sbagliarmi ma il costruttore Parnasi coinvolto nella questione dello stadio della Roma voleva dare 250 milioni al PD e gli venne indicato EIU almeno questo è quello che dicono i giornali non gli venne indicata la fondazione Open né tantomeno il partito perché la cifra la cifra era eccessiva quindi in questo senso si è ridotto il mercato diciamo per un momento ci è sembrato che ci fosse come dire non dico un monopolio ma cominciava ad esserci almeno nel centro-sinistra un oligopolio e nel centro-destra lo sgonfiamento del fenomeno berlusconiano ha prodotto la morte vera o cerebrale di alcune di queste fondazioni tant'è che a questo punto noi quest'anno di queste fondazioni che chiamiamo personali legate alle singole leadership politiche ne abbiamo contate non so 14 o 16 noi dobbiamo decidere ancora se sono da considerare in coma definiti sono in coma o la morte cerebrale è avvenuta quindi ne abbiamo contate 20 di meno d'accordo questo non vuol dire insomma vuol dire che questo questo mercato si è un po' si è destrutturato mentre crescono i think tank che fanno quello che fanno i think tank in America con l'aiuto spesso dei privati cioè qui l'elemento importante è che sono cambiati anche i modi di fare lobby cioè costruire come dire consenso e attenzione attorno ad alcuni temi di policy passa anche della costruzione di dati ricerche e ovviamente chi ha più filo da tessere lo tesse d'accordo meno nel rapporto diretto con con queste fondazioni partitiche e politiche più con fondazioni che costruiscono esternalizzando la funzione per le aziende il dato la conoscenza intervengono pubblicamente se qualcuno di voi ha visto l'ultimo evento dell'istituto Bruno Leoni a Milano di pochi giorni fa il numero degli sponsor era impressionante sono stati almeno 20 quindi è evidente che c'è un'attenzione del insomma del mondo delle aziende soprattutto verso i think tank che sono in grado di entrare nel dibattito pubblico che sono sempre meno questi think tank una cosa interessante e qui più chiudo magari poi ci dicevano quanto c'ho? io sono romano due minuti non li percepisco allora il andando a chiudere allora una cosa interessante è che sono nati appunto però anche think tank nell'area del del centro-destra e bisognerà monitorare una cosa insomma vi invito ad osservare per esempio l'iniziativa del Machiavelli Center adesso mi sfugge il numero perché non me lo sono segnato di un di un deputato della Lega ex Forza Italia che per esempio utilizza quello strumento come picchi bravo come piattaforma per contrastare invece quando c'è il governo giallo-verde la simpatia di una certa parte del governo verso la Cina per cui sulla questione del 5D della della via della seta insomma qui entro da una questione che forse vi interessa attorno a questi think tank e non solo quelli legati alla politica la questione del rapporto con gli altri paesi con la politica estera e col quadro internazionale conta soprattutto perché vi segnalo che nella percezione di alcuni paesi i think tank sono proprio uno degli strumenti con cui si costruisce quella diplomazia parallela in modo vi ricordo che il Council on Foreign Relations fu l'ambasciatore presso i PC per portare Giorgio Napolitano negli Stati Uniti quindi è sempre stato così quindi a questo darei attenzione e appunto su questa questione secondo me ci sono temi molto delicati vi faccio la questione del rapporto con l'estero e qui veramente chiudo facciamo conto che io sono un ambientalista americano e penso che in Italia non si parte abbastanza di emergenza climatica voglio finanziare dei politici che la facciano crescere in agenda e do 30.000 dollari è un bene è un male come la trattiamo oppure sono un governo c'è stato uno scandalo negli Stati Uniti molto serio perché il governo norvegese ha finanziato tutti i think tank compiosamente per mandare i propri conferenzieri negli Stati Uniti perché voleva lanciare l'allarme sul scioglimento dei ghiacci al Polo Nord perché lì ci sono pozzi petroliferi e diceva la Nato questo è un tema che interessa a tutti perché se no arrivano prima i russi però Nicolas confessore su New York Times costruì un'inchiesta che fece cambiare il quadro dicendo c'è un governo estero che sta tentando di influenzare per di più un alleato della Nato sta tentando di influenzare il nostro dibattito però la questione comunque è sempre molto delicata e però alla fine è ovviamente cruciale il tema della trasparenza quanto meno la condizione minima è che io sappia perfettamente esattamente chi mi ha finanziato chi ha finanziato rendi contati cosa ci hai fatto con questi soldi e possibilmente sui think tank viva Dio dovrebbero essere presenti nella home page dei loro siti in modo perfettamente chiaro e utilizzabile questo sarebbe l'accordo minimo da prendere secondo me chiuso Mattia Di Letti appunto per aver portato l'attenzione su uno dei temi che per noi è sicuramente importante appunto questo dell'interferenza dell'interferenza dall'estero e come ha emerso anche nella presentazione prima un po' a volte c'è interferenza dall'estero a volte c'è un'interferenza o un'influenza particolarmente elevata o discutibile in alcuni casi forse preoccupante da parte di attori privati che possono avere appunto non a cuore necessariamente l'interesse pubblico ma quello privato alcuni esempi si sono fatti ma questo appunto è una questione sicuramente importante per cui anche attori esteri possono come dire utilizzare dei veicoli nazionali per esprimere i loro interessi la legislazione attuale in sostanza permette di fare donazioni a persone giuridiche che pagano tasse in Italia credo che sia insomma chiaro che vi sono persone giuridiche che pagano tasse in Italia che non sono espressione di interessi né italiani né pubblici insomma da questo punto di vista quindi questo è sicuramente un aspetto importante e passo la parola a Federico Anghelè di Riparte il Futuro forse appunto adesso chiarirai questo grande dilemma su come su come chiamarvi oggi credo che sia appunto The Good Lobby sia la forma corretta grazie sì di fronte spesso anche partiti che tendono a frazionarsi noi invece abbiamo deciso di unirci e quindi Riparte il Futuro che è un'organizzazione forse qualcuno avrà sentito nominare che si è occupata per alcuni anni soprattutto di fare advocacy anticorruzione si è unita ad un'organizzazione che ha una prospettiva paneuropea che è The Good Lobby che si occupa a sua volta di fare lobbying civico quindi avevamo delle metodologie di lavoro molto simili e l'idea è quella di lavorare appunto sia sul versante costituendo di fatto un'organizzazione più grande che ha una sede in Italia e una sede a Bruxelles e l'idea quindi è quella di stimolare la democrazia la difesa della democrazia la partecipazione come prassi strumenti di lobbying civico in Europa e in Italia noi come Riparte il Futuro appunto organizzazione che si è occupata di anticorruzione ci siamo occupati in maniera costante ma non organica del tema del finanziamento ai partiti dico costante perché alcune delle campagne che Riparte il Futuro ha portato avanti e poi magari ritornerò dopo sulla trasparenza delle candidature hanno anche preso in considerazione l'aspetto del finanziamento ai candidati che è uno degli elementi direi mancanti nella complessiva riforma del sistema del finanziamento e della trasparenza anch'io come Mattia Diletti sono convinto che e qui faccio una considerazione personale sono convinto che si sia un po' gettato il bambino con l'acqua sporca probabilmente il sistema precedente del finanziamento pubblico che ha dato anche dei segni di corruttela di abusi andava superato ma andava superato per gradi e in maniera più pensata e razionale non è un caso ne vengo qualcuno di voi anche Open Police ha partecipato circa un mese fa ad un incontro all'Università Cattolica di Milano organizzata dall'OSCE quindi dall'organismo che si occupa anche a livello internazionale di democrazia e di sicurezza nel contesto euroasiatico non è un caso si discuteva lì come molti paesi sono passati dal finanziamento privato al finanziamento pubblico quindi in realtà facendo il percorso inverso rispetto a quello italiano mi verrebbe da dire che forse il bene sta nel mezzo pensando ad esempio al modello tedesco che è un modello misto in cui c'è una sorta di premialità pubblica verso quelle forze politiche che sono in grado di darsi da fare nell'intercettare dei fondi ma in generale mi verrebbe da dire quindi che abbiamo assistito ad una riforma che potremmo anche chiamare anche rispetto a quelli che erano i suoi propositi una riforma mancata abbiamo già evidenziato alcuni aspetti ma vorrei riprenderne in maniera più puntuale o ritracciare appunto una linea di limiti oggettivi di questa riforma prima di tutto mi verrebbe da dire è il fatto di non avere in realtà né la diciamo la riforma letta né tantomeno lo spazio a corrotti aver dato messo ordine ad una messe di norme molto confuse giusto all'incontro appunto dell'università cattolica un funzionario della camera dei diputati parlava di 13 diverse norme che regolamentano appunto il finanziamento ai partiti quindi con una confusione complessiva in cui i diversi piani quello locale quello regionale quello nazionale spesso entrano in contraddizione uno con con l'altro sicuramente quello che è mancato è stato e si è cercato poi con lo spazio a corrotti di mettere una pezza sopra è mancata l'ambizione di riformare complessivamente il finanziamento alla politica e non ai partiti si è tentato appunto con l'inclusione poi delle associazioni politiche e dei movimenti politici nello spazio a corrotti ma senza dubbio si sarebbe dovuto immaginare qualcosa di più ambizioso qualcosa di più ambizioso perché ad esempio se penso agli aspetti legati alla trasparenza e al finanziamento ci sono delle regole che riguardano i partiti ma non riguardano i candidati ad esempio per cui ci sono dei limiti che riguardano quella soglia ad esempio dei 100.000 euro che una forza politica può ricevere da un parlamentare da un da un da un soggetto esterno un soggetto privato non riguarda ad esempio i parlamentari in carica non riguarda i consiglieri regionali non riguarda i candidati a livello a livello locale ma anche in termini di trasparenza si è mancata non solo le evidenti mancanze a cui faceva riferimento prima open police quindi l'idea che ancora oggi i dati non siano minimamente riutilizzabili ma che si pensi appunto all'adempimento burocratico trasparenza uguale pubblicazione di un pdf ma nella pubblicazione di un pdf chi mai andrà a controllarsi 700 pagine se non appunto gli amici di open police forse ma che questo fanno di mestiere nessuno probabilmente e questo è di fatto la negazione stessa della trasparenza spesso quando non si vuole essere trasparenti si annegano i dati in una marea in un mare magnum di informazioni in cui è impossibile trovare poi o estremamente difficile trovare le indicazioni importanti dicevo che si è anche appunto mancato l'appuntamento di una organicità sul piano della messa in trasparenza dei dati perché penso ad esempio a un caso che magari non è il migliore del mondo ma si confronta il sito dell'Electoral Commission inglese e beh lì io trovo tutti i dati in un formato facilmente leggibile di tutti i livelli locali nazionali ma addirittura c'è un altro elemento che a mente resterebbe conoscere che non è solo quello di chi mi ha finanziato ma chi mi ha anche dato delle utilità io ricordo che controllando ad esempio il sito dell'Electoral Commission inglese ho trovato un dato molto interessante c'erano dei parlamentari ad esempio che erano stati invitati dal Ministero della Difesa dell'Arabia Saudita a fare una visita in Arabia Saudita ora non è naturalmente un reato andare in Arabia Saudita a spese del Ministero della Difesa però forse il fatto che un paese come l'Arabia Saudita non è esattamente un paese irrilevante sul piano geopolitico internazionale finanzi un'ammissione di un numero consistente di membri forse della stessa commissione difesa o della commissione estera non ricordo inglese e che paghi un'ammissione viaggiando naturalmente con tutti i migliori confort beh questa è un'indicazione che penso ad un elettore ad chi come noi si occupa di trasparenza è un'indicazione che potrebbe essere interessante utile per cui un'altra delle mancanze mi verrebbe da dire di questa di ambizione di questa legge è anche l'aver mancato non solo appunto ripeto l'indicazione aver posto soltanto il focus sul partito o su ciò che ruota attorno al partito ma non aver considerato appunto la politica nel suo complesso ma veniamo a un capitolo che è già stato citato ed è quello del 2x1000 partecipando a questo convegno di Milano a cui erano presenti anche i tesorieri di forze politiche mi sono sentito dire abbiamo dei risultati straordinari perché la nostra forza politica è riuscita ad intercettare il 2x1000 di un numero superiore agli iscritti al nostro partito ora considerato che il numero degli iscritti alle forze politiche in Italia è in caduta libera e considerato che i contribuenti italiani sono 41 milioni considerare che e cito i dati il chi ha optato in Italia per nel 2018 quindi con i redditi del 2017 per il 2x1000 sono poco più di un milione di cittadini ripeto su 41 milioni di contribuenti beh non mi sembra un gran risultato forse i tesorieri dei partiti dovrebbero dire a loro stessi e a chi guida le forze politiche che il perimetro a cui dovrebbero parlare e di cui dovrebbero intercettare i fondi non è quello degli iscritti appunto sempre più limitati delle forze politiche ma dovrebbero guardare a chi ad esempio ha votato per quelle forze politiche e il confronto cito soltanto PD il partito democratico nel 2018 ha intercettato 487 mila opzioni del 2x1000 la Lega 187 mila beh il numero dei voti raggiunti alle elezioni politiche del 2018 del PD è ben superiore a quelle 487 mila e lo stesso per la Lega è sui 187 mila ora perché il 2x1000 sarebbe un elemento importante non solo perché la politica costa e quindi il 2x1000 sarebbe uno strumento importante di finanziamento ma perché il 2x1000 permetterebbe quella parcellizzazione delle donazioni con una partecipazione da una parte dei cittadini quindi anche forse un senso di appartenenza dei cittadini alla politica ma eviterebbe quel rischio che spesso si può avere di forze politiche che di fatto sono tra virgolette controllate da alcuni grandi donatori è vero che c'è un limite a 100 mila ma è anche vero che ci possono essere mogli fratelli sorelle cognati che possono finanziare un partito questo è avvenuto alle ultime elezioni ad esempio ci sono delle forze politiche in cui effettivamente i fondi che sono arrivati da marito e moglie rappresentano una cifra consistente rispetto ai fondi intercettati da quella forza politica e beh questo senza dubbio non è un buon segno non è un buon segno perché prima si citava la fondazione Change io sono genovese sono sensibile quindi al tema appunto della campagna elettorale del movimento creato da 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 Toti e beh mi verrebbe da dire appunto che forse dovremmo porci il problema se sia così senza conseguenze il fatto che una grande azienda finanzi un governatore soprattutto appunto di una regione in cui il business principale è quello della portualità e questo sia il mi verrebbe anche da dire le cose sono anche migliorate perché a noi era capitato appunto come riparte il futuro di fare una campagna in cui chiedevamo ai candidati alle elezioni amministrative di in via proattiva di pubblicare i dati su su chi finanziava la campagna elettorale diciamo un tentativo di fare un'analisi in corso d'opera di chi finanziava la campagna elettorale il liberale candidato sindaco della mia città Marco Bucci che aveva veniva dalla scuola americana aveva preso l'impegno di dichiarare questi dati poi di fatto si è trincelato dietro il silenzio dicendo ah ma i dati i fondi ci arrivano tutti dalla fondazione Change visto che le elezioni erano cioè la fondazione di Giovanni Toti visto che parliamo di un'epoca precedente alla spazza corrotti per cui non c'era neanche l'obbligo di dichiarare appunto per le associazioni e fondazioni politiche che erano i donatori di fatto il 90% adesso non ricordo la percentuale ma la percentuale alta dei fondi che erano arrivati al candidato sindaco di Genova veniva da una fondazione di cui non si conosceva chi alle spalle aveva finanziato e chiudo toccando perché direi di essere prossimo alla conclusione il tema del lobbying che è stato evocato qua e là appunto in Italia e ripeto si può anche essere laici io penso che se si è trasparenti se i dati vengono resi pubblici ripeto in maniera organica in cui ci sia un sito in cui tutti i dati siano a disposizione di tutti i livelli decisionali nazionale centrale locale regionale alle elezioni europee anche dei candidati alle elezioni il greco cioè l'organismo anticorruzione del Consiglio di Europa ci ha fatto un rilievo che la trasparenza dovrebbe anche riguardare i candidati sapere chi ha finanziato i candidati perché in Italia poi una volta uno non è stato eletto chi se ne frega chi ha candidato chi ha finanziato quella persona appunto ripeto la trasparenza dovrebbe esistere in maniera molto più organica e non così patchwork le aziende che finanziano purtroppo in Italia possono anche pensare di farlo per ottenere dei vantaggi in da chi poi presta servizio ripeto forse non è non è illecito ma in un paese come l'Italia in cui da una parte abbiamo una trasparenza così mancante in cui abbiamo costruito una legge sul finanziamento con tutte le carenze che sono state evidenziate e in cui non è per nulla chiaro che cosa si può fare per influenzare il processo decisionale perché a parte qualche piccolo intervento di soft law molto molto caotico anche in questo caso alcune regioni che hanno introdotto delle normative sulla regolamentazione del lobby prontamente disattese la camera ad esempio che ha introdotto delle forme di trasparenza che però non sono state seguite ad esempio dal senato ministeri che in maniera anche qui secondo buona volontà hanno introdotto dei registri e delle agende dei portatori di interessi però appunto a fronte di una mancanza di una normativa nazionale se corre il rischio che poi questi interventi appunto sporadici e totalmente proattivi ma volontari si traducano in nulla quindi ripeto nella riforma mancata l'elemento della mancanza appunto di una normativa organica sul lobbying è un elemento ulteriore di attenzione di difficoltà e senza dubbio come diceva Matteo Diletti poi davvero concludo con l'elemento che spesso oggi chi riceve la rappresentanza di interessi sono quei think tank quelle fondazioni politiche che sono accanto alle forze politiche quindi che cosa come intervenire sul lobbying l'attività la regolamentazione dell'attività di lobbying è come è stato fatto ad esempio la camera semplicemente regolamentare l'accesso del portatore di interesse no direi che quello non sia sufficiente non illudiamoci però al contrario che tutto possa essere regolamentato naturalmente ma uno sguardo più coerente uno sguardo che tenga conto di come realmente le decisioni pubbliche vengono prese e di come funziona oggi appunto il mondo dell'influenza interna esterna ci dovrebbe far pensare che comunque nonostante gli elementi di novità della normativa ci sono ancora molti tratti pericolosi o che comunque si prestino a delle ulteriori approfondimenti e modifiche grazie ringrazio davvero Federico Anghelai tanti tanti temi toccati tanti gli aspetti appunto emersi da questa riflessione che ci portano in varie in varie direzioni una in particolare ci tengo in qualche modo a sottolineare che forse è un po' il punto di partenza questo fatto che adesso riparte il futuro è diventato the good lobby quindi una cosa di dimensione europea una dimensione paneuropea con tutta questa legge appunto la nuova legge sul finanziamento della politica che blocca del tutto vieta del tutto il finanziamento dall'estero in Italia si apre anche un aspetto che forse non è ancora determinante ma potrebbe diventarlo nei prossimi anni secondo me tante delle questioni contemporanee possono trovare una dimensione naturale o utile maggiormente utile di dibattito a livello europeo ci sono dei timidi sforzi per creare se non veri e propri partiti dei movimenti politici a livello europeo in questo contesto siamo sicuri di voler vietare delle donazioni anche piccole a cittadini di altri paesi UE e in realtà la mia risposta è no e questo appunto emerge anche dall'articolo che i presenti trovano in cartella chi ci ascolta via web o via radio insomma lo può trovare sul nostro sito cercando Svei online che è uno degli elementi insomma che proponiamo per il dibattito quindi adesso passo direttamente appunto visto che abbiamo parlato dei tanti tantissimi problemi insomma una cosa che facciamo sempre che andiamo a fare in Italia appunto parlare dei problemi che abbiamo e ci teniamo a parlare a concludere parlando di soluzioni quindi appunto in questi in questi pezzi ci sono riferimenti ad alcune proposte per migliorare il contesto per attenuare le soluzioni quindi accenno a un paio di soluzioni a cui noi abbiamo pensato noi come gruppo di lavoro interno a questo progetto e chiedo brevemente molto brevemente a dire il vero di commentare ai presenti ma di scegliere un singolo aspetto Mario alcuni di voi accenerò sentitevi liberi in qualche modo di intervenire e poi ci sarà qualche minuto per domande al pubblico quindi chi di voi ha domande insomma se le prepari insomma daremo occasione di insomma qualche minuto per un breve insomma botta e risposta di domande dal pubblico allora al di là appunto di questa dimensione dell'importanza di consentire donazioni benché piccole da attori esterni uno degli elementi che è emerso è questo delle interferenze che possono essere dall'estero anche se spesso i casi concreti che abbiamo visto che abbiamo discusso oggi si riferiscono a grosse aziende italiane o a singoli attori politici e analizzando i dati emerge che se l'impatto di grossi donatori pare essere non dirimente per la maggior parte dei grandi partiti politici in Italia invece lo è per quelle che possiamo chiamare le start up politiche quindi sia per quelle di Totti ma anche in quelle di Renzi ci sono alcuni donatori che insomma contribuiscono con una quota importante del bilancio totale e da questo punto di vista se guardiamo alla legislazione in questo settore che vi è in altri paesi europei vi sono dei limiti spesso più stringenti ad esempio in Francia dal 1995 vi è un divieto completo per le persone giuridiche quindi per le aziende di fare donazioni alla politica e questo mi sembra un aspetto rilevante insomma da una parte se ci preoccupiamo delle interferenze estere è facile immaginare come una o più persone giuridiche possono appunto farsi vettore gli interessi esteri dall'altro parte e qua appunto magari chiederei un barriere in particolare a Irene Pellizzone per quanto capisco io insomma costituzionalmente la partecipazione alla politica è un diritto delle persone non delle aziende e quindi limitare o vietare del tutto il finanziamento ad aziende e persone giuridiche non va a ledere alcun diritto diciamo così costituzionale come dire in Francia non ha sconvolto il panorama politico anche se nell'immediato ha avuto un impatto e nel contesto attuale sembrerebbe non avere un impatto enorme neanche in Italia se non appunto per alcune start up però come dire è anche legittimo chiedersi se lo spazio per far crescere nuove come dire avventure oppure nuove esperienze politiche e c'è e c'è anche raccogliendo fondi dal basso da tante persone e non necessariamente da poche persone con interessi spesso ben definiti un'altra caratteristica cito di nuovo il caso francese ad esempio il limite massimo di donazioni che ricordiamo in Italia è di 100.000 euro su base annuale in Francia è il limite di 7.500 euro quindi un limite molto più basso e in qualche misura più vicino ai soldi che ragionevolmente possono essere donati da persone più comuni persone comuni ragionevolmente non doneranno neppure 7.000 euro a un partito insomma però riducendo molto di molto il massimale donabile a una singola persona appunto può anche esserci moglie marito nipote cugino però per arrivare a somme che ragionevolmente possono dare se non una ricattabilità un'influenza determinante e diretta su un movimento politico insomma è molto più difficile di nuovo nel caso italiano per i dati che abbiamo visto insomma le donazioni alte tranne che per alcuni specifici attori non sono state particolarmente dirimenti però appunto se riduciamo questo tipo di donazioni se riduciamo al massimale forse ci togliamo un pensiero nel senso che si riduce molto il rischio di interferenze che sia ad attori esteri o nazionali brevemente insomma gli ultimi punti su cui io riporto l'attenzione uno è quello della della trasparenza la trasparenza effettiva quindi chiederei forse di nuovo a Daniele insomma ci siamo credo giustamente lamentati di questi pdf malformati e di questo insomma quindi c'è un problema sia di formato ma mi chiedo se bisogna ragionare di nuovo anche sul tipo di organizzazioni che devono o di enti o persone che devono rendicontare realistico affrontare questo controllare in modo efficace tutte queste organizzazioni a questo punto credo sia giusto appunto ricordare come sto fatto in più occasioni l'importanza di aumentare le risorse per gli enti di controllo permettendo loro di controllare una realtà oggettivamente complessa come emersa da tutte le relazioni un'ultima davvero ultima battuta e da parte mia riguarda insomma in queste breve diciamo così proposte di soluzioni abbiamo accennato nuovi obblighi definizioni di nuovi standard limiti più bassi eppure insomma è importante ricordare che la politica è importante che la politica abbia risorse adeguate per poter svolgere quelli che sono i propri compiti per arricchire il dibattito pubblico in Italia un dibattito pubblico sostanziale sui contenuti di cui c'è un gran bisogno e quindi forse e questa è una domanda su cui tutti i presenti possono di nuovo brevemente intervenire forse c'è bisogno a qualche punto analizzando i dati ragionando sul fatto insomma che il contesto attuale è tutt'altro che ideale per trovare soluzioni insomma se non un finanziamento pubblico diretto trovare magari altre soluzioni indirette per fare in modo che la politica non si ritrovi senza risorse e non si trovi come dire in qualche modo incentivata a cercare risorse con delle condizioni non certo trasparenti che sicuramente non aiutano un dibattito pubblico sereno insomma quindi creando nuovi spazi per avere dubbi su quali sono le motivazioni dietro all'azione politica di un singolo politico quindi breve giro davvero un paio di minuti a testa su questi elementi nell'ordine in cui siete intervenuti e poi lascio la parola al pubblico se avete qualche domanda Irene Pelizzone sì grazie dunque prometto che probabilmente la mia voce è un po' fuori dal coro perché comunque io ho valutato la direzione della previsione a livello legislativo di standard di trasparenza comunque in modo positivo ho tenuto conto del precedente assetto legislativo e mi domando vi domando questo proposito non possono dire nulla poi rispondo alle domande dove si debba arrestare la legge e dove invece debbano intervenire le forme di implementazione della legge a livello dei singoli enti della Camera dei Deputati della Commissione che deve ovviamente predisporre dei moduli con l'inserimento dei dati in forma digitale perché i pdf sono chiaramente inaccettabili prevedere degli elenchi divisi magari per partito per comitato satellite cose di questo tipo sicuramente concordo sulla problematicità dell'assenza di controlli sul finanziamento ai candidati mentre segnalo che rispetto alle campagne elettorali comunque vige il controllo della Corte dei Conti che è severo che è lento perché arriva mi sembra minimo dopo sei mesi più 45 giorni per presentare il rendiconto comunque arriva però c'è un problema che ha un controllo meramente formale mentre la Costituzione tedesca che è stata evocata prima prevede che non solo nella Costituzione che i partiti debbano avere un metodo democratico interno ma anche che siano trasparenti la rendicontazione e le fonti del finanziamento e il modo in cui il finanziamento è utilizzato quindi la Germania da questo punto di vista ovviamente esatto poi anche sulle fondazioni insomma è un sistema molto più avanzato del nostro anche se i problemi non sono mancati neanche in Germania rispetto al divieto di donazioni da parte di aziende non vedo problemi di natura costituzionale il legislatore potrebbe probabilmente introdurlo ma mi domando proprio nella ricerca di sempre maggiori diciamo comunque diverse forme di finanziamento privato tenuto conto dell'attuale confinamento del finanziamento pubblico anche in diretto che anche io auspico che invece venga superato questo confinamento che però non mi sembra che i chiari di luna attuali consentano di sperare bene mi domando sebbene da un punto di vista costituzionale della legittimità non mi sembra porre problemi se sia la direzione giusta oppure il dato come quello del finanziamento a Totti sia trasparente e poi sono gli elettori a fare le loro valutazioni quindi segnalo questo mio personale punto di vista perché a volte la tendenza a diciamo interventi legislativi ad ampio raggio anche molto molto dettagliati su come attuare la trasparenza poi non fanno che ingabbiare delle situazioni legandole appunto a un particolare momento storico un particolare episodio grazie grazie Daniele Di Bernardo allora due punti uno su una cosa che è emersa ora e poi l'altra sulla domanda di Giorgio di prima allora per quanto riguarda le norme che ci sono e andrebbero implementate meglio sicuramente vanno implementate innanzitutto perché c'è anche insomma altre norme sotto le ramonti che parlano chiaramente di open data e questo quello che abbiamo visto è insomma anni luce lontano dall'open data e il punto può anche essere il fatto che alcuni aspetti dell'attuale normativa sono anche da migliorare soprattutto sui think tank e le fondazioni politiche che sono insomma il caso più recente in cui il legislatore è intervenuto l'attuale definizione che sta alla data è di un ampio imbarazzante quella specie di apertura che sono troppe informazioni quindi è impossibile monitorarle come dicevo prima si parla di tutte le strutture che hanno negli organi apicali un terzo dei membri che sono persone che hanno avuto incarichi politici negli ultimi sei anni Parlamento europeo nazionale regionale nei comuni con più di 15.000 abitanti ora sapete meglio di me quanti sono i comuni con più di 15.000 abitanti in Italia siamo un paese insomma sono un'infinità sono quasi la maggior parte non è già escludere dal monitoraggio questi politici aiuterebbe di molto l'analisi della materia perché qui non si sta a fare una caccia alle streghe si vuole capire meglio come le persone che gestiscono il potere in Italia ma quello a livello nazionale lo gestiscono quindi non c'è necessità di avere informazioni su tutte le associazioni del sindaco di Poggi Bonzi sono altre questioni bisogna conoscere meglio le strutture vicine alle persone che hanno un ruolo politico reale in Italia quindi uno spunto che possiamo dare come società civile al legislatore è intervenire in questo senso cioè visto che abbiamo dato dei compiti troppo ampi alla commissione predisposta perché la commissione predisposta non ha i mezzi per farlo e uno dei problemi è proprio quello della gamma molto ampia di strutture da monitorare limitare il parco delle strutture da monitorare aiuterebbe tantissimo un ultimo un ultimo commento e poi chiudo è che purtroppo il sistema non sarà mai perfetto e i modi per aggirare il sistema ci saranno sempre ahimè faccio un esempio una delle strutture che abbiamo analizzato negli ultimi anni è Asimmetrie che è un'associazione politica molto vicina alla Lega al cui interno si trovano Bagnai Borghi Foa Savona Barracaracciolo insomma vari esponenti che sono finiti nel governo giallo-verde per esempio Luciano Baracaracciolo che è diventato sottosegretario molti si chiedevano chi fosse perché era il primo incarico politico si è poi scoperto che faceva parte di questa associazione di cui erano il presidente era Borghi era Bagnai nell'organo di attivo c'era Borghi Marcello Foa è stato dominato la presidenza della RAI anche lui era all'interno di questa struttura ora perché dico che il sistema era girabile due mesi dopo che è stata approvata la legge spazzacorrotti si sono tutti dimessi dagli organi apicali di questa organizzazione quindi formalmente questa struttura non è più un'associazione politica quando chiaramente lo è perché ne fanno parte molti politici anche se non negli organi apicali questo per dire che è chiaro che poi il sistema cerca sempre nuovi modi di raggirarlo questo perché forse quindi l'unica soluzione è veramente ridare più forza ai partiti perché dei partiti più forti rendono tutto il sistema più forte e quindi non ci sarebbe più modo o motivo per raggirarlo in qualche modo perché i modi per raggirare il sistema purtroppo ci saranno sempre Allora velocissimo io condivido molto la cosa che dicevi tu sulla mettere insieme la questione del finanziamento con come si regifera attorno alla questione delle lobby sono due cose che dovrebbero essere viste insieme quindi questo sono perfettamente d'accordo mi sembra anche molto ragionabile l'idea di abbassare i tetti cioè 100.000 è troppo alto poi c'è anche chi ti vuole dare di più ma intanto abbassiamo questo poi noi qui abbiamo il problema secondo me che abbiamo fatto tutto troppo in fretta perché insomma forse ci serviva anche una gradualità perché i partiti si adattassero a un regime nuovo questi partiti non sono capaci di attrarre fondi cioè nel senso non sono capaci di per quanto esistano mille possibilità non sono ancora capaci di costruire non sono popolari quindi dovrebbero fare qualcosa per migliorare la loro reputazione e questo aiuterebbe a costruire metodo di microfinanziamento arriverà anche a quel momento probabilmente però forse andava costruita una gradualità con cui si riusciva a fare in modo che i partiti si adattassero a questo processo di trasformazione io mi trovo molto d'accordo con la proposta di Ignazio e Pizzimenti che sostanzialmente diceva sia il finanziamento pubblico ma non troppo in modo tale che la bestia fosse sufficientemente affamata da costringersi ad avere un rapporto con la società perché poi qual è il problema del finanziamento pubblico quando tu costringi quando tu metti il partito nelle condizioni di non avere rapporti con degli iscritti dei simpatizzanti quello che è insomma lì a quel punto è chiaro che uno anche per pigrizia chiude la porta la porta a chiave e non va a cercare un certo tipo di relazione sulla questione delle aziende che ponevi tu come soluzione io non lo so nel senso che mi sembra ragionevole quello che è stato appena detto insomma sul fatto che io sono stato costretto da mia figlia ai 12 anni a bere in questa cosa quindi perché altrimenti non posso mettere i piedi a casa io ho un finanziamento da uno che fa borracce invece di uno che fa bottiglia di plastica lo prenderei ve lo dico insomma mi devo candidare e con una cifra bassa ne prendo un po' e fra me e lui c'è una convergenza di interessi poi se vogliamo andare a vedere le cose che succedono in realtà è chiaro che tutto sfugge perché parliamoci qua chiaro cioè qua ci sono io ho visto gigantesche manifestazioni politiche cittadine svolgersi in palestre abusive d'accordo perché in attesa che qualcuno fosse condonato diciamo la offriva a tutti e abbiamo visto di tutti i tipi quindi le vie del Signore sono infinite non verranno mai coperte tutte però mi sembra e qui chiudo veramente i partiti devono fare uno sforzo per primi per riuscire a riorganizzarsi perché noi stiamo parlando di questa cosa stiamo tutti dicendo che teoricamente è la cosa giusta cioè che i partiti sono come dire componente essenziale del funzionamento delle democrazie rappresentative e però devono ristrutturarsi in qualche modo è ovvio che i partiti non possono essere quello che erano 30 anni fa però ad esempio tanti vizi devono essere eliminati cioè uno dei modi essenziali per sopravvivere le modalità essenziali per sopravvivere dei partiti oggi è governare perché 4 quinti di quella struttura che altrimenti pagheresti fuori te la metti dentro allora facciamo che di necessità a virtù della passo 1, 2, 3 volte a un certo punto questa cosa deve finire e devono riorganizzarsi quindi lo dico a favore delle telecamere partite fatevi aiutare in qualche modo noi siamo con voi sì due cose due cose flash uno sul limite io ho qualche perplessità non perché di per sé sia favorevole a immaginare che non ci siano soglie ma perché appunto la politica costa e senza una visione organica il timore mio è che se uno pone il limite a 7500 poi proprio perché i partiti non sono in grado di organizzarsi nel finanziamento si trovi la scappatoia e i fondi vengono intercettati attraverso third parties totalmente opache quindi stiamo attenti da questo punto di vista non perché di per sé la soglia sia un errore ma perché se non viene affrontata in maniera più allargata e quindi non si incentivano appunto le donazioni o non si incentivano i partiti di fatto a darsi da fare per fare delle campagne in maniera tale da intercettare quelle micro donazioni che però abbiamo visto in alcune campagne elettorali citiamo quella famosa di Obama sono state cruciali e vitali ma allo stesso tempo appunto per me il rischio è quello che poi si aprono altri rivoli attraverso cui affluiscano questi fondi e mi verrebbe quindi da dire come diceva la professoressa Pellizione che sicuramente non è la panacea ogni male la trasparenza ma costringere le forze politiche a rendere comunque questi fondi questi finanziatori trasparenti beh forse sono poi gli elettori che giudicano un elemento in più forse dovrebbe essere quello dei codici di condotta perché a fronte di mancanza di codici di condotta non si sa chi ad esempio ti possa finanziare ti può finanziare chiunque forse darsi delle regole costringere i candidati ad esempio ad avere delle regole su chi quali donazioni accettare e quali no beh questo potrebbe essere un elemento non dico di rimente ma un'aggiunta rilevante l'altro aspetto è quello dei fondi esteri siamo tutti d'accordo che l'Italia fosse anche in questo caso un'eccezione con la riforma letta e che gran parte dei paesi del mondo non prevedano il finanziamento da parte di soggetti esteri però e qui pongo una domanda alla costituzionalista all'interno del contesto europeo è lecito laddove è presente la possibilità di movimento di capitali inibire proibire a un cittadino di un paese che fa parte dell'area UE di finanziare anche nell'ottica di quello che diceva prima Giorgio cioè dei timidi tentativi di creare delle forze politiche transnazionali finanziare dei partiti all'interno di un contesto che dovrebbe essere il più aperto possibile come quello dell'Unione Europea per cui benissimo porre dei limiti mi chiedo anche qui non sono del tutto convinto ma forse ai nostri esperti di fondazioni e fintank forse lo stesso limite non esiste quindi un altro gap che sappiamo cioè oggi come oggi i fondi vengono intercettati dalle cosiddette fair parties pensiamo allo scandalo di Alternative für Deutschland in Germania che ricevette 4,30 40 milioni di euro da un finanziatore straniero ma non dal partito un'associazione legata quindi in Italia anche qui è un aspetto significativo il fatto che si sia regolamentato per i partiti ma non per quei soggetti che spesso oggi intercettano i fondi grazie se ci sono domande al pubblico poi lascio brevemente appunto Mari rispondere su questi singoli aspetti a chi è piacere di rispondere però se ci sono domande intanto le raccogliamo tutte vi raccomando appunto massima sintesi nelle domande perché appunto i tempi sono visto che all'estero si vota si vota dall'estero e che questi elettori attraverso i comit sono comunque tutta una serie di associazioni che sono all'estero non possono in qualche modo finanziare io non sono d'accordo sul voto all'estero però voglio dire perché allora questi qui non possono finanziare il loro partito o la loro associazione di rispettivamente allora lascio brevemente appunto se ci sono commenti alle questioni emerse forse professore sicuramente posso concordare sulla magari in opportunità di un divieto assoluto di finanziamenti da parte di governi esteri piuttosto che di soggetti che non siano cittadini italiani o non siano iscritti alle liste elettorali italiane da un punto di per quanto riguarda i cittadini italiani residenti all'estero il loro diritto di voto deriva proprio dal loro legame con lo Stato italiano dal loro essere cittadini italiani quindi è questo diciamo questo legame valoriale con lo Stato italiano di cui si nutre il loro diritto di voto quindi forse possiamo trovare qui delle ragioni di questo diciamo così della non incostituzionalità forse di questo divieto su cui mi riprometto di ragionare ancora più a fondo perché invece per quanto riguarda poi l'interferenza che può avere il divieto con il consolidamento la nascita di formazioni politiche di livello europeo anche qua forse ci sono dei problemi di inopportunità molto seria di incostituzionalità non lo so perché comunque la disciplina dei partiti nazionali è qualcosa che è quanto mai legato alla sovranità italiana e quindi è una materia su cui chi ha voce in capitolo è legislatore nazionale non so se poi ci siano delle norme dell'Unione Europea che siano violate dalla limite della circolazione di capitali all'interno dell'Unione Europea sotto l'alveo del finanziamento a partiti politici quindi mi riprometto di approfondire questa tematica e poi più in generale se posso colgo l'occasione per sottolineare anche io l'importanza di avere un sistema partitico vitale assoluta l'estraordinaria capacità dei partiti di adattarsi al contesto io non so se i partiti in questo momento siano davvero in crisi o semplicemente si siano trasformati perché mi sembra che da un punto di vista costituzionale quindi forse sono limitata nei miei punti di vista le funzioni diciamo così di rilievo costituzionale dei partiti politici siano selezionare dei candidati e presentare un minimo di programma politico in modo tale che poi il voto si organizzi i cittadini votino secondo un minimo di organizzazione delle idee e mi sembra che questo ancora i partiti i movimenti riescano a farlo possiamo dire in modo inopportuno ma lo riescono a fare si sono adattati diciamo così alla nuova realtà e si stanno cercando di adattare anche alla nuova realtà di crisi nell'idea tradizionale di partito politico anche per trovare delle modalità di finanziamento e in questo senso il nostro articolo 49 è centrale perché appunto lascia i partiti liberi di organizzarsi come vogliono ad esempio il Movimento 5 Stelle ha una sua identità nel senso che lui non è un partito ma è un movimento aveva un non statuto e quindi questo tipo di varietà è sicuramente il portato della nostra Costituzione a differenza di quello che succede in Germania io non lo so se una legge che imponga il metodo democratico interno sarebbe rispettosa di questa visione estremamente liberale dell'articolo 49 della Costituzione che poi lascia ai partiti in modo di scegliere la loro organizzazione interna perché magari può essere anche identitaria sono associazioni non riconosciute tutto questo rende sicuramente più difficile la sfida di controllo del finanziamento io in questo senso ritengo che la trasparenza vera sia fondamentale qua c'è una sentenza costituzionale recente che vi segnalo non riguarda i partiti ma riguarda la trasparenza la 20 del 2019 la Corte Costituzionale ha detto che la trasparenza appunto non è opacità per confusione sottolineando questo aspetto quindi penso che l'obiettivo trasversale della trasparenza in tutti i partiti i movimenti eccetera effettiva a mio avviso è fondamentale anche insomma proprio del finanziamento l'organizzazione interna è tutto un altro paio di maniche su questo possiamo concludere appunto ricordando l'importanza dei partiti e l'importanza della trasparenza questi sono sicuramente elementi emersi su tanti altri ci sono elementi di dibattito ringrazio molto tutti i presenti ringrazio chi ci ha seguito via web chi ci ha ascoltato attraverso la radio quindi un ringraziamento anche a Radio Radicale agli ascoltatori di Radio Radicale e buonasera grazie a tutti voi grazie a tutti i nostri spettatori di Radio Radicale grazie a tutti i nostri spettatori di Radio Radicale